Fiume Gela, nero sempre più profondo, dove sono i controlli? Una moria di pesci senza fine, nell'acqua che ormai ha assunto un colore nero-verdastro. La situazione del fiume Gela è sempre più complicata. A denunciare lo stato di degrado, che sembra ormai irreversibile, ancora una volta l'associazione Aria Nuova, secondo gli ambientalisti il problema degli sversamenti da ricercare a nord della foce, dalle parti dell'area industriale della città, dove insistono un paio di impianti di sollevamento. Consiglio è giunta in quarantena fiduciaria, doppi tamponi per tutti. Il caso della consigliera positiva ha creato allarmismo tra tutti i politici presenti in aula durante la seduta sfociata nell'approvazione del bilancio. Oggi tutti sono stati invitati a sottoporsi al tampone. Il presidente del Consiglio Comunale, Sammito, augura solidarietà e pronta guarigione alla collega. Risultata positiva. Consorzio di bonifica, ragione sblocca i primi fondi da mesi. I lavoratori del Consorzio di bonifica attendono di ottenere le tante mensilità arretrate. I sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione. Da Palermo però arrivano le prime autorizzazioni per il rilascio di fondi per oltre un milione di euro. Incidente mortale alle acciaierie. Sei a processo. Due operai morirono per le conseguenze di un gravissimo incidente sul lavoro verificatosi in uno stabilimento di acciaierie venete a Padova. Rimase gravemente ferito anche l'operaio Gelese Davide di Natale. Per quei fatti il gruppo del Tribunale Padovano ha disposto il rinvio a giudizio di sei imputati accusati di omicidio colposo. C'è sempre il mare. Esce il libro di esordio di Domenico Russello. Ricordi, riflessioni, storie. Il grande protagonista però è lui, il mare. Domenico Russello, giornalista gelese, incentra su tutto questo il suo primo libro, C'è sempre il mare, pubblicato da l'erudita editrice. Una raccolta di sette racconti che spaziano dall'eco delle memorie di infanzia alle riflessioni sul presente, proponendo sensazioni che riempiono di umore ed emozione ogni pagina. Il libro è disponibile e ordinabile in librerie e su tutti i principali store digitali. Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Fiume gela sempre più nero, una moria di pesci senza fine, l'acqua che ormai ha assunto un colore nero verdastro. A denunciare lo stato di degrado che sembra ormai irreversibile ancora una volta, l'associazione Aria Nuova. Secondo gli ambientalisti il problema degli sversamenti è da ricercare a nord della foce e dalle parti dell'area industriale della città, dove insistono un paio di impianti di sollevamento. È passata poco più di una settimana dall'ultima moria di pesci alla foce del fiume Gela e poco o nulla sembra essere cambiato. La parte del corso d'acqua che sfocia il mare ha assunto ormai un colore nero verdastro e il tanfo è insopportabile. Ai resti dei pesci arenati sulla spiaggia adesso si aggiungono anche quelli di grandi uccelli acquatici che hanno provato a cibarsene. Lo scenario tutto intorno è surreale. Sulla sabbia sono evidenti i segni di inquinamento lasciati da prodotti chimici di vario tipo. Tutto intorno anche rifiuti scaricati liberamente, compresi anche scarti di materiale sanitario. A completare il paradosso di un'area profondamente inquinata, una coppia di bagnanti che passeggia tranquillamente tra le acque nere che si riversano in mare. Qui i controlli continuano a mancare, nonostante le denunce, nonostante i post di indignazione e orologeria sui social. A confermarlo sono i rappresentanti di Aria Nuova, l'associazione ambientalista che negli ultimi 30 anni ha presentato decine di denunce sullo stato del fiume e che oggi chiede di intensificare i controlli. È da più di 30 anni che denunciamo questo stato di fatto. L'emergenza oggi è molto più grave rispetto al passato perché nel frattempo non sono stati fatti gli interventi dovuti sul fiume, anche piccole bonifiche di salvataggio anche della fauna e della flora. Purtroppo assistiamo ancora oggi a un sistema di non controllo sul territorio. Io chiedo al sindaco, che è anche il primo cittadino responsabile anche della salute pubblica, che si faccia carico di questa situazione, una situazione che con me è diventata insostenibile. Qua c'è gente che viene a pescare all'interno di un fiume, e gente che viene a raccogliere anche delle vongole e altri tipi di cose che vengono messe anche sul sistema alimentare. Perciò anche qua bisogna fare una verifica seria perché non è possibile che c'è gente che ancora oggi qua all'interno abbiamo trovato gente che viene a pescare. Se queste vengono messe nelle cucine, vengono vendute ai cittadini, si crea un grave danno alla salute. Secondo i due ambientalisti il problema degli sversamenti è da ricercare a nord della Foce, dalle parti dell'area industriale della città dove insistono un paio di impianti di sollevamento. Noi abbiamo presentato diverse denunce con prove eclatante, prove stellare, proprio a prove stellare, alla procura della Repubblica, da dove proviene l'inguinamento. Una dalle pompe fognare che scaricano da Caltacqua e l'altra poi c'è da andare a controllare altre fonti che provengono sicuramente sia dal mattatoio, da un troppo pieno del mattatoio comunale, sia da zona asia. Noi ci stiamo in continuazione ad un degrado ambientale, marino e alla flora, così come ha detto Amato, che è veramente scandaloso. Poi noi vediamo qua nessun controllo, nessuno ha rimosso tutti questi pesci perché adesso stiamo vedendo che alcuni vanno scommarendo perché vengono poi ovviamente mangiati dagli stessi pesci, quindi dalla forame, ma questi vanno rimossi subito, immediatamente e qua non è stato fatto nessun intervento. Gli ambientalisti adesso chiedono interventi concreti e immediati per una vicenda che sembra ormai fuori controllo. Qua bisogna fare un controllo proprio millimetrico sul fiume e controllare sistematicamente. Oggi non è più possibile, noi oggi assistiamo a un fiume che è morto e se non vengono fatti interventi seri la popolazione subirà gravissime situazioni anche di salute. Io non capisco perché per quanto riguarda il Covid oggi noi facciamo controlli millimetri sui cittadini e quando si riguarda un fiume che è la vita del nostro territorio non viene fatto niente. Il tasso di contagio da Covid in città si riduce, in totale positivi sono 935. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 39 casi, tutti in isolamento domiciliare. Risulta un nuovo ricovero in degenza ordinaria, mentre i guariti sono 43. L'incidenza del virus è sicuramente più limitata, i nuovi casi in provincia sono 8 pazienti di Niscemi, 4 di Campofranco, 3 di Caltanissetta, 2 di Sera di Falco, 2 di Sommatino, 1 di Santa Caterina, Villa Armosa. I guariti sono 8 di Riesi, 6 di Mazzarino, 6 di Caltanissetta, 2 di Niscemi, 2 di Vallelunga, Pratameno, 1 di San Cataldo. E il caso della consigliera positiva al Covid ha creato allarmismo tra tutti i politici presenti in aula durante la seduta sfociata nell'approvazione del bilancio. Oggi sono stati tutti invitati a sottoporsi al tampone il presidente del Consiglio Comunale, San Mito, augura solidarietà e pronta guarigione alla collega positiva. Sentiamo. Tutti i componenti del Consiglio Comunale, il sindaco e la giunta presenti in aula durante la maratona del bilancio ed il personale del comune dovranno osservare un periodo di quarantena fiduciaria. Ad accendere i riflettori sulla politica locale è stato il caso della consigliera esponente di Fratelli d'Italia, risultata positiva al Covid-19. Dall'ASP fanno sapere che è stato avviato il tracciamento del caso per tutti i contatti diretti della consigliera dell'opposizione positiva. Il risultato del primo tampone di oggi non è indicativo, fanno sapere dall'ASP di Caltanissetta. Tutti i contatti diretti dovranno ripeterlo anche nelle prossime 48 ore. Comunque ognuno di loro dovrebbe osservare da subito l'isolamento fiduciario. Dal risultato del tampone di oggi, comunque aggiungono dall'ASP di Caltanissetta, disporremo la quarantena per tutti i soggetti venuti a contatto con la consigliera. Il presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Sammito, dal canto suo, augura solidarietà e pronta guarigione alla collega risultata positiva al Covid-19. Tanto solidarietà e pronta guarigione alla collega che è positiva, questo è doveroso da parte mia e del Consiglio Comunale. Ricordo a me stesso che anche l'ora consigliare, così come l'ha detto alla sicurezza, è dotata di tutte le misure anti-Covid che sono necessarie perché venga svolto il Consiglio Comunale. Manderemo più tardi una nota all'ASP con l'esito dei tamponi di tutti i consiglieri comunali e dopo valuteranno quelle che saranno le azioni da andare a prendere, se ce ne saranno. Una buona fetta è già venuta a farla, alcuni stanno venendo perché si trovavano in altre zone del paese, anzi ringrazio gli operatori dell'ASP che stanno attendendo fino alle ore 13 la possibilità che i ritardatari possano venire, quindi ritengo che entro la fine della giornata tutti effettueranno il tampone e se confermeranno quello fatto ieri, così come sono sicuro e auspico dai laboratori convenzionati, dovrebbero essere tutti negativi. Rispetto alla situazione invece il Consigliere Rosario Faraci si mostra polemico. Quando avevamo chiesto di fare la seduta in modalità mista, questo era un modo per poter agevolare chi magari ha in quel momento impossibilità per qualsiasi motivo, anche per motivi familiari, per motivi impegni di lavoro e non solo, da partecipare alla seduta in modo da alleggerire l'aula e mettere meno. Siamo stati criticati, non abbiamo capito il motivo, però evidentemente l'intuizione non era proprio malvagia. Intanto il Consiglio Comunale resta sospeso per tutto il mese di agosto e le eventuali commissioni si effettueranno solo in remoto. Tra i consiglieri comunali c'è anche un dipendente dell'USCA provinciale. I lavori di Consiglio Comunale sono stati già sospesi la settimana scorsa per la pausa estiva quindi i lavori di Consiglio Comunale non ce ne saranno per tutto il mese di agosto. Non ci saranno lavori delle commissioni, qualora dovessero farle verranno fatti a remoto e ripeto, se dovessero essere positivi non ci sottrarremo sicuramente alla quarantena che l'Aspi ci indicherà, qualora ce la indicasse. E non ce l'ha fatta l'imprenditore 45enne Luca Gatti. Era ricoverata a Sant'Elia di Caltanissetto ormai da alcune settimane. All'alba di oggi i sanitari nisseni hanno accertato il decesso. Le sue condizioni si erano aggravate nonostante avesse ricevuto la prima dose del vaccino. Il virus non l'ha risparmiato. Gatti era molto conosciuto in città, soprattutto per la sua attività di organizzatore di eventi. Ha spesso lavorato non solo per conto di privati ma anche in tanti enti pubblici. Il Covid purtroppo fa un'altra vittima in città, lasciando nello sconforto la famiglia di Gatti e tutti quelli che lo conoscevano. Cambiamo argomento. Da mesi i lavoratori del Consorzio di Bonifica tendono di ottenere le tante mensilità arretrate. I sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione e da Palermo arrivano le prime autorizzazioni per il rilascio dei fondi per oltre un milione di euro. Di tardi e pagamenti fermi sia per il personale a tempo indeterminato che per quello stagionale al Consorzio di Bonifica locale. La tensione in questi ultimi mesi non è mai mancata. Troppo spesso si verificano ritardi nell'erogazione delle somme. A risentire delle conseguenze sono i dipendenti e gli operatori avviati per le attività in campagna. I sindacati del settore hanno dichiarato lo stato di agitazione. Qualcosa però a Palermo si muove. Il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha autorizzato il trasferimento di circa 280 mila euro che serviranno a coprire le somme delle attività per i 28 operatori stagionali impiegati nelle attività in campagna. I funzionari palermitani hanno preso atto delle note giunte dagli uffici del Consorzio ma anche delle forti recriminazioni sindacali. Gli stessi uffici hanno dato il via libera allo sblocco della prima semestralità per i dipendenti a tempo indeterminato. Poco più di un milione di euro anche per evitare che la protesta possa sfociare in ulteriori mobilitazioni bloccando le attività. In questo caso pare servirà comunque il parere conclusivo dell'Assessorato dell'Economia. Sul Consorzio di Bonifica Locale anche ultimamente si sono concentrate diverse attenzioni vista la situazione che si verifica costantemente nelle campagne locali soprattutto per la scarsa distribuzione idrica e per le risorse che sono sempre più ridotte. Con la propria auto contro le sbarre del passaggio a livello di via Butera è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Alla guida della vettura c'era una giovane donna che pare non abbia riportato particolari conseguenze. Le sbarre in quel frangente erano abbassate ma sembra che l'auto sia andata comunque avanti rimanendo incastrata. Anche gli altri automobilisti sono intervenuti per dare aiuto. La donna a bordo dell'automobile si è poi allontanata. Sul posto sono arrivati gli agenti della Municipale per i rilievi e sembra che l'automobilista verrà sanzionata. La cronaca giudiziaria. Due operai morirono per le conseguenze di un gravissimo incidente sul lavoro verificatosi nello stabilimento di Acciaieria e Vente a Padova. Rimase gravemente ferito anche l'operaio gelese Davide Di Natale. Per quei fatti il gruppo del Tribunale padovano ha disposto il rinvio a giudizio di sei imputati accusati di omicidio colposo. Due operai morti, Sergio Todita e Marian Bratu e un altro, il gelese 43enne Davide Di Natale, gravemente ferito nel maggio di tre anni fa nello stabilimento di Acciaieria e Vente a Padova. Un gravissimo incidente sul lavoro costò la vita ai due operai e Di Natale a sua volta rischiò di essere travolto dalla colata di acciaio fuso che fuoriuscì dopo l'accedimento di una Siviera. Per quei fatti il gruppo del Tribunale di Padova ha rinviato a giudizio sei imputati, tutti accusati di omicidio colposo e lesioni. Sono i vertici di Acciaieria e Vente e delle società che si occuparono di fornire il perno della Siviera e di quelle che operavano su appalto. Di Natale attraverso un'agenzia di lavoro interinale era al secondo giorno per conto della Ayama. Sono contestate violazioni anche sul fronte delle norme in materia di sicurezza. Di Natale rappresentato dall'avvocato Gabriella Galliano ha scelto di costituirsi parte civile a seguito delle ferite molto gravi riportate. A processo che si aprirà nel giugno del prossimo anno vanno Alessandro Banzato e Giorgio Zuccaro, presidente e direttore di Acciaierie Venete, Dario Fabbro che nel 2018 era presidente di Danieli Centro Crane SSPA, Gian Pietro Benedetti e Giacomo Mareschi Danieli, presidente e amministratore delegato di Danieli Officine Meccaniche, Vito Nicola Plasmati, legale rappresentante della Ayama. Per lui l'accusa è di lesioni colpose. Come responsabili civili sono state chiamate nel giudizio anche le aziende, le famiglie dei due operai deceduti hanno ottenuto risarcimenti e hanno rinunciato alla costituzione di parte civile. Risarciti anche la Fiam CGL e l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Sul Lavoro. I PM della procura padovana avevano chiesto il rinvio a giudizio di tutti i coinvolti. Secondo le contestazioni il perno che poi non tenne sarebbe stato sottoposto a carichi differenti rispetto a quelli previsti in fase di progettazione e realizzazione. Un'avvertenza aperta da quasi due anni e le indicazioni che arrivano dalla Regione sono tutt'altro che favorevoli. Non ci sono grandi spazi per le infrastrutture del territorio nel piano presentato dall'assessore regionale Marco Falcone nel corso di un incontro avuto con le organizzazioni sindacali. La CGL avviò l'avvertenza per sbloccare Gela. Le infrastrutture principali però rimangono senza troppe prospettive. Secondo i sindacalisti della CGL, proprio per i territori come quello locale, bisogna concentrare fondi e investimenti. Anche la Regione sta monitorando la situazione del conferimento dei sovvalli a Timpazzo. I vertici delle impianti SRR non hanno dato l'autorizzazione al lato. Ci sarebbero irregolarità. Il commissario Ato Giuseppe Lucisano esclude anomalie e conferma i comuni che i comuni potranno continuare a conferire nel compostaggio di Brucazzi in servizio. L'intero sistema locale dei rifiuti attraversa sicuramente una fase molto complessa. Non è solo la piattaforma di Timpazzo ad essere al centro dell'attenzione, anche regionale. Nell'ultimo periodo l'impianto di compostaggio di Brucazzi, gestito dal lato CL2 e liquidazione, sta concentrando diverse valutazioni anche politiche. In Consiglio Comunale i grillini hanno chiesto chiarimenti sull'ampliamento che ha ottenuto i pareri favorevoli della Regione. In questi giorni sembra inoltre che qualcosa non funziona al meglio nei rapporti tra lato CL2 e liquidazione, retto dal commissario Giuseppe Lucisano e la impianti SRR, che gestisce invece la piattaforma integrata di Timpazzo. I sovvalli che arrivano da Brucazzi in questa fase non trovano spazio nel sito di conferimento. Per i responsabili della impianti SRR ci sarebbero difformità anche autorizzative, quindi non ci sono le condizioni per ricevere i sovvalli a seguito dei conferimenti. Dubbi sono emersi sulle polizze fideussorie e anche su questi aspetti si è tenuto un confronto in remoto con i responsabili del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti. Il commissario Ato Giuseppe Lucisano spiega però che le fideussioni sono assolutamente regolari. Ribadisce che lato si muove sempre nel massimo rispetto del principio di legalità. I comuni possono continuare a conferire nel compostaggio di Brucazzi. Secondo Lucisano per i sovvalli si troverà comunque una soluzione, sempre per evitare aggravi dispese ai cittadini. Qualche incomprensione istituzionale c'è sicuramente nei rapporti tra i vertici Ato e quelli della Impianti SRR amministrata dall'ingegnere Giovanna Picone che sta portando avanti la piattaforma di Timpazzo in stretta collaborazione con la SRR4. Lucisano spiega inoltre che sono assolutamente regolari non soltanto le fideussioni ma anche l'intera documentazione sull'AIA. Sul conferimento dei sovvalli per la Impianti SRR ci sono inoltre conti da saldare da parte dell'Ato e si è proceduto per un decreto ingiuntivo da 350.000 euro opposto dai legali dell'ambito. Il sistema di Brucazzi allo Stato non si ferma e non ci saranno strade alternative con l'eventuale conferimento in altri impianti isolani o di altre regioni come accadde nel recente passato anche per la frazione organica della Comune di Gela. Sull'asse Ato SRR si muovono inoltre le prossime sorti della gestione del sistema di compostaggio di Brucazzi che in base alle carte presentate in regione sarà destinata ad un aumento della capacità fino ad 11.000 tonnellate annue. Il presidente della SRR Filippo Balbo spiega comunque che i comuni stanno continuando a conferire a Brucazzi ma con tanti problemi e tante difficoltà. Anche sulla gestione si attende un intervento della regione. Sul tema ci sono stati giudizi amministrativi e l'ambito continua a portarlo avanti nella ormai lunga fase commissariale. Allo stesso tempo a Palermo sono in atto procedure per l'autorizzazione di nuovi impianti a Timpazzo in un sistema locale dei rifiuti ormai diventato strategico per l'intera isola. Toponomastica o fai da te nell'estrema periferia nord della città. I residenti di Ariano Albani-Roccella sono stati costretti a posizionare a ridosso delle loro abitazioni cartelle con i nomi delle vie per sopperire all'assenza cronica dell'ufficio segnaletica del Comune. In verità il problema avrebbe assunto proporzioni allarmanti con la presenza di soggetti positivi al Covid-19 costretti ad indicare le loro abitazioni e gli operatori chiamati a garantire assistenza a chi deve rispettare gli obblighi di dimora. E anche in via dell'allora a Roccazella i residenti hanno scelto di intervenire direttamente senza aiuti da nessuno. Sono state ripulite alcune aree verdi e le strade anche quelle di accesso alla spiaggia. I residenti in maniera fai da te non si sono risparmiati neanche con la segnaletica. Hanno collocato cartelle e segnali anche a tutela dei bambini che vivono e giocano tra quelle strade. Piuttosto che attendere istituzioni non sempre attente alle stanze dei cittadini sono stati proprio loro ad organizzarsi dando un segnale che è sicuramente forte in una zona dove la manutenzione è da sempre assai scarsa. C'è sempre il mare esce il libro di esordio di Domenico Russello dove appunto il mare è il protagonista. Domenico Russello giornalista gelese incentra su tutto questo il suo primo libro C'è sempre il mare pubblicato da l'erudita editrice una raccolta di sette racconti che spaziano dall'eco delle memorie d'infanzia alle riflessioni sul presente proponendo sensazioni che riempiono di umori ed emozioni ogni pagina. Il libro è disponibile, ordinabile, libreria su tutti i principali store digitali. Il mare come orizzonte, come limite o come desiderio, il mare che accompagna ogni gesto quotidiano che è interprete di ogni stato d'animo, un mare che le storie le racconta, le ascolta e spesso le ispira, così come è successo al giornalista gelese Domenico Russello che ha scelto proprio il mare come protagonista del suo romanzo d'esordio. C'è sempre il mare pubblicato dall'erudita editrice Marchio Giulio Perron Editore e una raccolta di ricordi, riflessioni, storie nate durante il primo lockdown. Sette racconti che spaziano dall'eco delle memorie d'infanzia alle riflessioni sul presente proponendo sensazioni che riempiono di umori ed emozioni ogni singola pagina. Una sorta di ispirazione venuta all'improvviso, non pensata strategicamente. A mano a mano che le prime storie di questo libro prendevano forma, mi è venuta l'idea del mare come filo conduttore e mi è venuta durante il primo lockdown, il cosiddetto lockdown dura, quello in cui eravamo tutti chiusi a casa, forse l'unico che la gente ha rispettato davvero e in quel momento credo che tutti abbiamo fatto caso alle cose che ci mancavano, alle cose più belle, prossime che però in quel momento sembravano irraggiungibili. Il mare per me è stato tra queste, ho riconsiderato il mio rapporto col mare, ho riconsiderato quanto il mare fosse presente nella mia vita, fosse importante, perché a volte noi anche con la macchina attraversando il lungomare ce l'abbiamo di fianco ma non facciamo caso all'imponenza, alla potenza del mare. Ecco per me quello è stato un momento in cui riflettere su questo tema che è stato sicuramente bello, interessante ma anche impegnativo e poi ho cercato di portare le mie riflessioni in questi racconti che ho consegnato al mio primo libro. I profumi della propria terra, i legami più speciali e la contemplazione della bellezza che ci circonda mentre il tempo intorno a noi scorre. C'è tanto di Domenico Russello nei racconti pur non essendo un romanzo autobiografico ma c'è anche tanta gela. Penso che ci sia tanto, non è un libro autobiografico assolutamente, però a livello di quello di sensazioni, emozioni, anche ricordi personali ce ne sono tanti. Ho cercato di scriverli sperando che il lettore possa immedesimarsi, cercando di creare dei ponti tra me e il lettore. C'è tanto anche di gela, così come prendo spunto da fatti che mi sono accaduti o che ho visto accadere, gela è presente perché gela è la mia città, è la città in cui vivo, è la città in cui lavoro, è la città che amo perché io sono un profondo innamorato di questo territorio e ci sono dei racconti, uno in particolare che è proprio dedicato al mio nostro, oserei dire, rapporto con Gela, in particolar modo alle bellezze della nostra città. A questo punto la domanda è quasi scontata, qual è il racconto a cui sei più legato di questo libro? Indubbiamente c'è un racconto che anche per chi sta leggendo il libro ha un sapore particolare che è Le sue mani bianche che è dedicato a mia nonna, mia nonna che non c'è più ormai da tanti anni, un ricordo che è nato in maniera spontanea, non ho potuto tenerlo dentro benché io sia uno che insomma con le emozioni più intime e profonde ci va molto cauto rispetto alla loro condivisione. Poi c'è l'ultimo racconto che secondo me cerca di esprimere quello che è il mio rapporto con Gela, che è ti racconto una storia, il racconto che conclude il libro e quindi è anche quello un racconto al quale tengo particolarmente ma solo perché devo rispondere alla tua domanda e citarne qualcuno. Il libro è disponibile e ordinabile in libreria e su tutti i principali store digitali. E domani sera alle 21 si terrà in piazza Roma il gran galà del premio Eleonora Lavorre giunto all'ottava edizione, proporrà come ogni anno le più belle voci scelte dal concorso Canora e premiato a Roma lo scorso 10 luglio. 15 nuovi talenti, tanti ospiti di fama nazionale e un'orchestra dal vivo allieteranno la serata che sarà presentata da Gerry Italia e Maria Teresa Corso. L'ingresso gratuito sarà contingendato e sarà obbligatorio esibire il Green Pass o un certificato che attesti l'esito negativo del tampone effettuato almeno 48 ore prima. Il nostro telegiornale termina qui, per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it. Grazie per averci seguito.